Metto un po' da parte il borsello, ci torniamo tra poco per mostrarvi la lama di oggi. Sì ragazzi, sono entrato in fissa per quanto riguarda gli EDC ed eccolo qui, un karambit con la punta, tanto. E non è meraviglioso. Questo è lo shoto. Shoto in giapponese significa lama corta, perché in effetti è una lama corta. Ma è un capolavoro frutto della collaborazione di Spartan Blades con Tu Lam. Tu Lam forse lo conoscete già, forse no, dovete sicuramente cercarlo, ma lo trovate tra le pagine di Backpacko e Ronin Tactics su YouTube e sui social. Un ex operatore delle forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti che si occupa di tecniche di difesa e arti marziali e ha sviluppato insieme a Spartan Blades questa meraviglia di coltello. Il blocco lama, ovviamente necessario per questo tipo di coltelli, è un liner lock. E sì, questo è un coltello nato per l'autodifesa e le applicazioni marziali. Però devo dire che nella vita di tutti i giorni avere la possibilità di tirare fuori il coltello già aperto e tagliare i pacchi e tagliare i cartoni è eccezionale. Quando avete da liberare le mani fate così e poi potete lavorare. Quindi una caratteristica di un coltello sicuramente tattico, anche in questo modo, avete le mani libere e poi potete tagliare i cordini, tagliare i nastro, tagliare i cartoni. Quindi che dirvi. È evidentemente una scelta interessante per gli operatori di sicurezza, per chi deve avere un coltello nell'uso da combattimento, ma è altrettanto utile nelle operazioni di tutti i giorni, magazzini, imballaggi, cantieri, dove vi serve una lama robusta, efficace e prontamente dispiegabile. Ma anche sicura in mano, proprio perché vi permette questo genere di lavoro. Le guancette sono in G10, con un grip pauroso, studiato proprio per, vedete, abbracciare la mano, accogliere la presa e darci il massimo della tenuta, anche con le mani sudate o scivolose. Guardate anche come l'ergonomia del manico ci lascia lo spazio per serrarlo. Nello stesso tempo però ci dà una grande soddisfazione perché è spesso. L'anello è maggiorato rispetto a tanti altri carambit, ma è maggiorato perché ci consente l'uso anche con i guanti. E quindi nel momento in cui devo utilizzarlo in attività concitate e ho i guanti, devo riuscire comunque a dispiegarlo e ad operare in questo modo. Oppure se ci interessa posso prenderlo anche così. L'acciaio della lama è il CTS XHP. Lo incontriamo per la prima volta questo tipo di metallo, ma è una lega eccezionale, ricavata da polveri e Spartan Blades ci ha abituati solo al meglio. Sul dorso del manico troviamo questi jimbing. Oltre chiaramente a funzionare quando il coltello è impugnato, aperto, lama dispiegata, tornano molto utili anche nella presa del coltello come strumento diciamo senza lama ma allo stesso modo persuasivo. Ok? Perché con questo un operatore di sicurezza riesce a dare delle belle botte magari sui polsi, delle belle botte come fosse un manganello eppure senza dispiegare la lama. La clip che ha questa bellissima freccia incisa è reversibile chiaramente tra destra e sinistra così che possiate portarlo a destra e sinistra per mettere all'apertura Emerson, Emerson Wave si chiama questa, di funzionare. E' un sistema brevettato questo di Emerson, serve anche se lo avete già in mano per agganciarlo alla tasca e tirarlo fuori in questo modo qui. Lo spaziatore sull'anello è di un arrosso meraviglioso, mi sta piacendo troppo, è particolare questo coltello, è molto particolare e comunque si capisce anche perché. La lama si muove su rondelle d'ottone e si capisce che questo è importante, devo essere in grado di aprirlo anche se magari non è completamente dispiegato. Il designer è il pregiatissimo Thio Lam e la lunghezza della lama è di soli 6 cm e 35, ma è tutto quello che serve. Spessore della lama 3 mm ci vuole in alcune situazioni. La lunghezza totale è di 19,5 cm, l'acciaio ne parlavamo prima, CTS XHP di altissima qualità ed è temprato tra i 58 e i 60 HRC della scala Rockwell. Lo stile della lama lo vedete da soli, ha questa bellissima punta tanto con brunitura nera. Il blocco che garantisce la sicurezza dello strumento è un liner lock. Lo Shoto ha una costruzione particolarmente robusta ed è fondamentale in uno strumento che potrebbe salvare la vita di un operatore di sicurezza in un'azione di combattimento ravvicinato, è chiaro? Tanto quanto salvare la vita ad un cliente di backpack che deve mettere via i cartoni appena sono arrivati, altrimenti lo becca la moglie. Se ti piacciono i coltelli dai un'occhiata alla nostra collezione, se questa recensione ti è piaciuta lascia un bel mi piace qui sotto. Ovviamente ti sei già iscritto al canale, vero? Altrimenti fallo subito, schiaccia la campanella per ricevere anche le notifiche quando è pronto un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima anche sugli altri social.